Allora, andiamo a presentare oggi questo fantastico gioco che si chiama... Sai Titi! E Romeo è giusto? No! Come si chiama? Sai Kiwi! Sai Titi! Bravissima Olivia! No, io l'ho detto bene, Olivia no! Ok, quindi si chiama... Sai Kiwi! Fly Kiwi! Siete pronti a lanciare i vostri Kiwi? Sì, sono pronto, inizio io! Allora, come funziona? L'ho fatto io! No, quello non c'entra, quello è un elastico, ma tu non ce l'hai la tua... No, Olivia non gioca! Allora, aspetta, facciamo vedere come funziona. Quindi Romeo bisogna lanciare i Kiwi e formare... Oh, Olivia! E formare... che cosa bisogna formare? Ma non è formato! No, no, ma non... Va bene, va bene, va bene! Che cosa bisogna formare? Sei Kiwi! Sì, ma a parte il nome, dobbiamo fare quattro caselle con lo stesso colore, giusto? Sì! Allora, proviamo! Adesso tocca a noi! No? Niente, è mio turno! Vai! Vai! Niente! Noi ce l'abbiamo fatta, Olivia! È mio turno! Niente! Sopra di me! No, no, no! Papi, è mio turno! Ah, scusa, scusa! Niente! È mio turno! Vai! Sì! È mio turno! Vai! Sì! Sì, ma non vale andare sopra! Sì! È andato qui, Sam! Eh, non vale così! Sì! Uh, troppo lungo! Niente, è mio turno! Sopra di te! E quindi hai vinto perché hai fatto quattro! Sì! Giusto? Sì! Batte il cinque! Bravissimo, Romeo! No, ci vediamo alla prossima puntata! Con il nostro Flying Kiwis! Giusto Olivia?